Buongiorno a tutti, sono Maria Teresa della PS Genovese Zenzero. L'incontro di oggi fa parte di un ciclo di incontri, di conferenze, che abbiamo iniziato nel 2021, proprio l'anno in cui si celebrava il ventennale del famigerato G8 genovese e allora si cominciava a parlare di transizione ecologica e dei fondi, della quantità in gente di soldi che avrebbe dovuto arrivare col PNRR. Abbiamo cominciato a chiederci quale transizione ecologica vogliamo e abbiamo posto le nostre domande a esperti in vari campi per approfondire argomenti, per informare, per fare divulgazione e non ultimo per fare anche formazione, perché, come abbiamo detto tante volte, ormai la buona volontà non basta più. È necessario avere nuove conoscenze e divulgarle. Gli incontri che abbiamo iniziato dal 2021 sono tutti reperibili sui nostri social. Per quello che riguarda il sito dello Zenzero basta andare dove compare questo logo, cliccare su questo loghino e si arriva in una pagina dove sono riportate le conferenze e registrazioni delle conferenze dal 2021 a oggi. La conferenza di oggi abbiamo invitato Enzo Favoino, ricercatore della Scuola Agraria del Parco di Monza, responsabile del Zero Rifiuti Europa. Noto attivista, Pavoino ha partecipato, ha collaborato con tutti quelli che cercavano di avere una raccolta di rifiuti che non implicasse un inceneritore. L'antica battaglia di Capanno è rivinta da Ercolino e i suoi soci. Direi che su questo, prima di passare la parola, fatemi chiudere la condivisione, spero di riuscirci. No, di nuovo, vabbè, è così. Non mi fa chiudere la condivisione di nuovo, Christopher? Non la chiude neanche a me come prima. Chiedo scusa. Volevo dire, prima di passare la parola al Circolo Zenzero, dove Federico Valerio di Ecoistituto avvierà la conversazione con Enzo Favoino, volevo chiedere di riservare le domande in chat alla fine della conversazione e di chiudere il video e l'audio. Scusatemi, ma per chiudere la mia condivisione devo riavviare il computer. Quindi io riavvio e credo che voi possiate andare. Giusto? Perdo. Grazie e la parola a Federico. Bene. Grazie a Christopher che ci supporta in queste situazioni e la parola a Federico. Sì, grazie e buonasera a tutti. e a particolare a Enzo Favoino per averci dedicato un po' del suo prezioso tempo per questa nostra conversazione. Con lui vorremmo cominciare a capire questa associazione di cui lui fa parte, Zero Waste, questa associazione che rifiuti zero a Europa. Ci puoi dare qualche informazione più precisa, cioè di chi ne fa parte, quali sono gli obiettivi, quali sono i risultati che avete raggiunto fino ad oggi. Attenso. Più che volentieri non lo faccio però prima di avervi ringraziato per l'invito. La cosa è stimolante anche perché mi avete chiesto di mantenerla in maniera discorsiva, il che consente di mettere qualcosa di nuovo nel mio modo di gestire la disseminazione delle informazioni, perché in genere sono presentazioni strutturate ma poi la cosa entra nella routine. Tra l'altro vedo alcuni cari amici collegati, li saluto tutti, per esempio Giuseppina Montanari, Andrea Cavalleroni. Poi avremo modo magari anche di fare un accenno alla nostra campagna, anzi senz'altro me l'ho sommesso nella lista delle cose da dire. La nostra campagna nazionale che coordino assieme a Silvia Ricci sul deposito cauzionale. Andrea è uno dei membri della campagna più attivi su questa cosa ed è un modo anche per ringraziarlo per il suo attivismo virtuoso. Allora mi hai chiesto anzitutto come funziona Zero Waste Europe, cos'è Zero Waste Europe. Posso dire senza timore di essere smentito che è diventato nel tempo il network di riferimento a livello europeo sull'economia circolare. Partiamo da un dato di fatto. Vi sarete accorti che intanto il 30 di marzo è stata per la prima volta nella storia, e lo sarà ogni anno, la giornata internazionale rifiuti zero, Zero Waste, non dichiarata da Zero Waste Europe, ma dichiarata dall'ONU, dalle Nazioni Unite. Quindi al massimo livello di autorevolezza istituzionale, le istituzioni globali si pongono il problema di un rapporto più sostenibile e con la gestione dei nostri materiali post-consumo. Questo toglie evidentemente un po' di argomenti a chi fino ad adesso ha cercato di offuscare la nostra reputazione dicendo ma quelli di rifiuti zero semplicemente non vogliono gli impianti. Noi abbiamo sempre detto rifiuti zero è la strategia dei mille sì, non è la strategia dei no, perché sa dire sì ma alle cose giuste, alla raccolta differenziata, al riciclo e al compostaggio, alla riduzione dei rifiuti, alla riprogettazione di beni, in imballaggi e servizi in maniera meno dissipativa, al deposio cauzionale, agli impianti di compostaggio, agli impianti di gestione anaerobica, agli impianti di riciclo, tutte quelle cose che servono per passare ad un'economia circolare. E dov'è che si innesta il rapporto tra economia circolare e rifiuti zero? Che rifiuti zero non è né più né meno, a me piace definirla come la perfetta cassetta degli attrezzi per trasformare la visione dell'economia circolare in realtà operativa. Ora l'Europa sta transitando progressivamente dall'economia lineare, però noi in Europa l'abbiamo abbandonata da un po' di tempo, e presente ancora in altre aree del mondo. L'economia lineare è quella che in maniera icastica, in ambito anglosassone, si definisce quella basata sul paradigma take-make-waste. Take significa preleva risorse dall'ambiente, make significa trasformale in beni, imballaggi e servizi, e waste significa smaltisci poi gli scarti di queste attività, cosa che comporta due ordini di impatti, non solamente lo smaltimento finale, ma la continua estrazione di materie prime dal pianeta. Poi l'Europa, a partire dal 1975, cioè la prima direttiva quadro, si è spostata verso un'economia del riciclo, in cui si cerca di riciclare il più possibile, poi avanza qualcosa da smaltire, cerchiamo di farlo in condizioni di sicurezza. Negli ultimi anni, con il pacchetto economia circolare, approvato nel 2018, anche se la prima bozza era del 2014, e tra l'altro si è annotato, si è lasciato agli atti, che la prima bozza era sottotitolata dall'allora commissario Janetz Potocnik, era sottotitolata a un programma rifiuti zero per l'Europa, perché Potocnik aveva già compreso il legame strettissimo tra visione dell'economia circolare e pratiche rifiuti zero. Allora, nell'economia circolare, che è quella che l'Europa sta cercando, con contraddizioni, ingolfamenti, rallentamenti, noi cerchiamo di velocizzare tutto il processo, ma l'Europa sta cercando, convintamente, di spostarsi in quella direzione, nell'economia circolare, materiale e risorse vengono mantenuti nel sistema, nel loro status più elevato, il più a lungo possibile. Ecco, ci sono due concetti, lo status più elevato e il più a lungo possibile, il che significa che c'è un approccio a cascata nell'economia circolare, cioè proviamo a applicarlo al settore delle plastiche. Per le plastiche, meglio la plastica riusabile, dopodiché è meglio il riciclo a circuito chiuso da bottiglia a bottiglia, e solamente in terza istanza viene quello che facciamo adesso, cioè che il riciclo in downcycling da bottiglia a filato. Perché va peggio il downcycling? Perché facendo filato si entra nel settore della fast fashion, che è un settore a basso tasso di circolarità, quindi vuol dire che riciclo una volta e poi non riciclo più. Invece il riciclo a circuito chiuso da bottiglia a bottiglia consente di mantenere il materiale nello status più elevato. Proviamo ad applicarlo al settore dell'organico. Nel settore dell'organico noi diciamo sempre il paradigma superiore alimenta gli esseri umani, quindi i food recovery programs, i programmi di recupero delle derrate alimentari, che fortunatamente si stanno diffondendo in Italia grazie alla legge Gadda, che anche in altri paesi, la Francia ha addirittura individuato un approccio ancora più restrittivo perché hanno definito un crimine, anche in termini legali e non in termini etici, lo spreco alimentare. Poi però tra il dire e il fare, a volte c'è di mezzo il mare, l'Italia forse ha scelto un approccio più ragionevole su questa cosa, nel senso che ha individuato una serie di condizioni enabling conditions, cioè condizioni che promuovono il recupero delle derrate alimentari con semplificazioni procedurali, amministrative, detrazioni fiscali e quant'altro. Però per l'organico viene prima il recupero a scopo di alimentazione umana, se non va già più bene per l'alimentazione umana allora cerchiamo di alimentare gli animali e quindi l'utilizzo a scopo di mangimistica e poi alimentiamo i suoli, quindi il compostaggio e la digestione anaerobica. Quello che dobbiamo cercare di evitare nell'uno e nell'altro caso è la discarica e l'inceneritore, evidentemente, perché sono tutti e due codificati come leakages, cioè dispersioni di materiali, dalla loro gestione circolare. L'incenerimento che alcuni cercano produttoriamente di inserire negli schemi e nella visione dell'economia circolare, dicendo abbiamo bisogno di un inceneritore per fare economia circolare, in realtà è lineare per definizione, perché l'inceneritore cosa fa concettualmente? Brucia materiali, recuperando energia, con un tasso di efficienza energetica peraltro bassissimo, è meno del 25%, stiamo tra il 20% e il 25%, quindi recupera meno di un quarto dell'energia che è inclusa nei materiali che brucia. E quindi io dico sempre, siccome sapete che a livello internazionale l'incenerimento viene anche definito waste to energy, dal rifiuto ad energia, io dico piuttosto dovreste definirlo waste of energy, uno spreco di energia, perché se ne recupera pochissima. Fatto sta che recuperando quel poco di energia l'incenerimento distrugge una volta per tutte i materiali e risorse in cui quell'energia era inserita e quindi non è economia circolare, tant'è vero, magari poi ci torneremo, che all'incenerimento si applica il principio DNSH, è un principio codificato a livello europeo, sta per do not significantly harm, non creare un danno significativo, all'economia circolare. Quindi non può far parte dell'economia circolare un'opzione a cui si applica il principio non creare un danno significativo all'economia circolare. Ecco, in rifiuti zero, per tornare a rifiuti zero, abbiamo tutti gli elementi che ci consentono di perseguire questi principi, cioè mantenere i materiali nel loro status più elevato il più a lungo possibile. Poi, siccome mi è stato chiesto anche come agisce Zero Waste Europe? Mi interessava sapere chi ne fa parte e come funziona, perché è una cosa che noi non conosciamo. Allora, Zero Waste Europe viene definita a livello europeo come una member-based organization, un'organizzazione basata su una membership. Noi abbiamo dei network locali e nazionali che sono parte di Zero Waste Europe. abbiamo una quarantina di network in 27 paesi dell'Unione Europea e non solo, perché abbiamo dentro anche l'Ucraina, abbiamo le ragazze che in Ucraina, Zero Waste Alliance of Ukraine, stanno facendo delle cose bellissime anche durante questo periodo di guerra. Ad esempio, noi due mesi dopo che scoppiò, che ci fu l'invasione dell'Ucraina, ricevemmo queste email dalle ragazze che al VIV ci contattavano su due temi. Primo era l'assistenza alle donne rifugiate, il VIV, Leopoli, nella parte occidentale dell'Ucraina, vicino al confine con la Polonia, quindi una zona relativamente più tranquilla, anche se non del tutto tranquilla. Anche lì sono arrivati razzi, bombe, droni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tosta che loro dicevano noi abbiamo 300.000 rifugiati al VIV, che è una città di 700.000 abitanti e che fa già la raccolta dell'organico e io partecipai a un consiglio comunale al VIV, alias Leopoli, in italiano, per convincerli a introdurre la raccolta dell'organico, che loro stanno già facendo a Leopoli. Loro però dicevano abbiamo 300.000 rifugiati e questo ci comporta una serie di problemi. Ad esempio, abbiamo il problema della fornitura di pasti, dell'erogazione di pasti, che noi attualmente diamo in monouso, ma questo comporta un'esplosione dei rifiuti nella città. Ci potete aiutare con delle lavastoviglie di tipo industriale e con delle forniture di tableware, di stovigliame riutilizzabile? Noi abbiamo fatto, tra l'altro, una raccolta di fondi con la testata Eco dalle città, che è una delle testate più attente vicine ai nostri temi e gli abbiamo regalato queste lavastoviglie, questi contenitori di usabili e loro hanno fatto un bellissimo video in italiano, perché ci sono molti a Leopoli che parlano l'italiano, perché magari hanno studiato in Italia e così via, ringraziandoci della cosa e hanno cominciato questo progetto di assistenza. L'altro era sui menstrual items, cioè il materiale mestruale per le donne che tra i 300.000 rifugiati hanno questo tipo di problema. L'Usa e Getta, anche in questo caso, crea un grandissimo problema e loro chiedevano assistenza, consigli ed assistenza e materiale per affrontare questo tipo di problema. Chiaramente vi potete immaginare il nostro stupore quando abbiamo ricevuto queste email, perché dicevamo ma caspita, ma voi in un tempo di guerra state pensando alla sostenibilità, però poi abbiamo capito perché per loro lavorare sulla sostenibilità è un altro modo per preservare il senso di comunità e lottare contro l'obrobio della guerra, mantenendo bellezza nei loro posti. Noi sappiamo che bruttezza genera bruttezza, bellezza genera bellezza, quindi cercare di mantenere una sostenibilità nella gestione di materiali post-consumo per loro era un modo per mantenere questo senso di comunità e la voglia di preservare la bellezza della loro città. fatto sta che noi abbiamo questa quarantina di network che sono collegati e abbiamo esperti tra l'altro mi pare, no? Come? Sono anche persone esperte in vari campi insomma, che collaborano. Sì, nei vari network abbiamo ovviamente ogni network ha delle sue priorità, una sua agenda e delle sue priorità. Alcuni network ad esempio lavorano eminentemente sui percorsi del riuso, sul deposito cauzionale, il deposito cauzionale è un tema che unisce moltissimo i vari network e che sta molto a cuore anche a me e avremo poi magari modo di parlarne se avremo modo di parlare dell'agenda europea sugli imballaggi e sulle plastiche. Noi però abbiamo poi un team a Bruxelles un team ormai molto nutrito se sfioriamo la trentina di persone quando Zero West Europe venne fondato nel 2013 eravamo tre o quattro c'era Jean-Marc Simon che faceva il direttore Rossano Ercolini che era il presidente io che facevo il coordinatore scientifico e siamo stati fondati come capitolo europeo di Gaia che è l'alleanza globale contro gli inceneritori oggettivamente abbiamo assunto un ruolo guida anche a livello globale su quelle che sono le politiche e le visioni anche di Gaia perché l'Europa è oggettivamente un paio di decenni avanti nell'evoluzione delle politiche ambientali e questo ci consente di lavorare in un ambiente che è favorevole dal punto di vista politico e regolamentare ai temi che ci stanno a cuore non sto dicendo che è perfetto però nel lungo cammino verso la perfezione noi siamo un po' più avanti anche se ancora molto distanti da quella che noi intendiamo come perfezione per questo noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorare ulteriormente la situazione le 30 persone che sono a Bruxelles i network nazionali o locali io come coordinatore scientifico e quant'altro abbiamo un modo di agire che è secondo una duplice direzione noi lavoriamo sia su quello che noi chiamiamo il top down dall'alto verso il basso cioè cerchiamo di influenzare le politiche europee e dei governi nazionali facciamo lobby sì o no esatto e ci sta riuscendo molto bene soprattutto a livello europeo cioè io stesso a volte mi stupisco oggi è uscito quest'ulteriore documento che è una proposta europea su un tema molto importante la tassonomia europea della finanza sostenibile che copiava carta a carbone quelle che erano state delle nostre proposte e io stesso a volte mi stupisco di come riusciamo ad essere incisivi oppure capita che sia il gabinetto della vicepresidenza Tim Ermas che è il vicepresidente della commissione europea con la delega al Green Deal che ci contatta per avere le nostre idee su come affrontare e risolvere un problema perché abbiamo siamo riusciti a creare credibilità cioè e il giusto mix tra quella capacità di visione che ti deve portare ad essere coraggioso cioè spostare sempre più in là la barra dell'ambizione che è un po' lo spirito rifiuti zero questo se vogliamo quello che io chiamo il sempre felici e mai soddisfatti è un'altra frase che io ho coniato e che è diventata fortunata nelle reti rifiuti zero a livello locale cioè sappiamo festeggiare quelli che sono i conseguimenti che già abbiamo avuto ma vogliamo ulteriormente migliorare in questa direzione e questo richiede la capacità di essere coraggiosi visionari nel sesso positivo visionari come lo si dice in inglese visionary significa dotato di visione di capacità di traguardare il futuro ma anche molto pragmatismo si vuole molto pragmatismo perché bisogna mantenere credibilità altrimenti se uno è troppo visionario e si allontana troppo nel futuro perde il contatto con la realtà allora noi agiamo dall'alto verso il basso influenzando le politiche le normative di settore ma anche dal basso verso l'alto e questo è il compito dei network e degli attivisti locali cercando di implementare sul terreno quello che noi promuoviamo quindi schemi rifiuti zero comunità rifiuti zero e quant'altro quello che gli americani chiamano walking the talk cioè dal predicare all'implementare questo è altrettanto importante tra l'altro perché se è vero che fare delle buone politiche poi mi rende più facile implementare a livello locale degli schemi è anche vero che anticipare a livello locale degli schemi mi consente di avere già gli esempi operativi viventi che poi vengono utili quando noi discutiamo sui tavoli europei cioè quando l'Europa all'ultima tornata della discussione sul pacchetto economia circolare doveva discutere se l'obiettivo di recupero netto di material 2035 doveva essere il 65 il 70 o il 50% e chiaramente c'era chi tirava indietro e diceva no il 65% non ci si può arrivare come non esiste un unico posto al mondo dove si fa il 65% di riciclo e noi avevamo già centinaia di comuni rifiuti zero che invece dimostravano che questa cosa era possibile anche in città di una certa dimensione come il caso di Parma che fa l'82% di raccolta differenziata e il 70% di riciclo netto quindi tutte e due le cose operiamo su tutte e due le direzioni dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto l'altra domanda che volevo farti era questa le direttive europee nel tema della gestione appunto dei materiali post-consumo ci sono queste direttive qual è l'obbligo poi dei paesi una volta che hanno aderito perché l'iter diciamo legislativo immagino che sia questo se ci puoi dare qualche dettaglio perché a volte abbiamo l'impressione che come dire vabbè ce lo dice l'Europa di farlo e queste cose dobbiamo farle perché ce lo dice l'Europa oppure anche perché sono cose sensate che il caso di fare comunque è a prescindere questo aspetto qui come ci puoi raccontare un po' come vanno le cose allora se non si rispettano le direttive che succede tanto per capire ci sono tante domande in questa tua domanda no no d'accordo abbiamo anche un po' di tempo a disposizione una cosa per volta allora anzitutto perché l'Europa è così convintamente indirizzata verso l'economia circolare perché guardate voi sapete che la prossima primavera 2024 ci saranno le elezioni europee e c'è qualcuno che sta facendo già sogni di gloria perché sarà altamente probabile un cambiamento della composizione dell'Europarlamento con un netto spostamento a destra noi ci siamo interrogati se questo andrà ad influenzare l'agenda perché qualcuno pensa che l'economia circolare sia l'innamoramento temporaneo di ricchi annoiati e questa purtroppo è una narrazione che sta facendo presa con il nostro nuovo governo nazionale io resto sempre distante da considerazioni politiche in senso partitico mi piace molto la politica come scienza delle scelte cerco di stare distante per me gatti che siano bianchi o neri sempre devono prendere i topi però oggettivamente c'è da dire che abbiamo avuto ampie dimostrazioni le ultime settimane e gli ultimi mesi che questo governo sta usando molto la narrazione la politica ambientale che vengono dall'Europa sono proposte ideologiche che non tengono conto della realtà non è così non è così e io quando ho partecipato a dibattiti anche sulle reti nazionali sulla RAI piuttosto che in altri casi ho detto ma voi quando dite che è una proposta ideologica vuol dire che avete letto le 800 pagine di valutazione strategica corredo della proposta allora puntualmente la controparte arrossisce e non sa rispondere e io dico sempre ma magari in Italia avessimo un percorso così aperto trasparente e scientificamente fondato della produzione normativa perché in Europa è così in Italia nove volte su dieci non è così non è così fatto sta che perché l'Europa ha adottato questa questa agenda sull'economia circolare un numero su tutti anzi due il primo numero è il 60% che la percentuale di risorse primarie che l'Europa sta importando da altri continenti per alimentare il proprio metabolismo industriale produttivo nella crisi globale da scarsità delle risorse non vi devo spiegare che cos'è l'overshoot day il giorno dell'anno in cui abbiamo già consumato tutte le risorse che il pianeta crea in un anno e quindi dovrebbe in una situazione di equilibrio dovrebbe posizionarsi al 31 dicembre e invece ce l'abbiamo ormai a luglio l'overshoot day il che significa che avremo bisogno di 1,8 barra 1,9 pianeti ma ne abbiamo uno solo fatto sta che in questa crisi globale la scarsità delle risorse l'Europa che è un sistema produttivo forte ma un'assoluta povertà di materie prime in condizioni di assoluta precarietà poi succede che la Russia invade l'Ucraina e ci manca il vetro per imbottigliare il vino e la salsa di pomodoro e questo lo dicono tutti e noi dice più di tutti lo possiamo dire perché possiamo dire l'avevamo detto cioè in un mondo precario e connotato da equilibri molto labili l'unico modo per salvaguardare un sistema produttivo come quello europeo è passare ad un'economia circolare in cui gli scarti di un precedente ciclo di produzione e di consumo diventano le risorse per alimentare un nuovo ciclo di produzione e di consumo questo è il primo numero 60% di importo di materie prime il secondo numero è 27 che sono i materiali critici individuati nella strategia europea sui critical raw materials sui materiali critici cosa sono i materiali critici? sono dei materiali che sono vitali per il nostro sistema produttivo ma di cui non abbiamo fonti interne tra questi ci sono praticamente tutte le terre rare c'è il fosforo che serve per l'agricoltura e senza agricoltura significa totale dipendenza alimentare da altri continenti vuol dire che ci possono mettere il cappio al collo evidentemente ma di terre rare ne abbiamo tantissime nel computer da cui vi sto parlando nello smartphone con cui ci telefoniamo negli elettrodomestici eccetera eccetera il fosforo ce n'è tantissimo negli scarti organici che fino adesso avevamo buttato e che invece l'Europa ha deciso di assoggettare ad un obbligo di raccolta differenziata articolo 22 della direttiva quadro dal primo gennaio del 2024 l'Italia tra l'altro l'ha anticipato al primo gennaio del 2022 perché avevamo già l'80% della popolazione connesso alla raccolta differenziata dell'umido e ospitiamo anche la città più grande al mondo che fa la raccolta dell'umido sul 100% della popolazione che è la città vicino alla quale abito io Milano quindi con questi due numeri innanzitutto capiamo perché il tema è diventato così centrale fino a diventare con il Green Deal l'asse portante per la ripresa economica dopo la pandemia cioè al lato del suo insediamento la commissione von der Leyen anzitutto pensiamo a una cosa interessante a Bruxelles non stanno governando i verdi quindi non è un'imposizione ecologista ideologica l'ambientalismo ideologico europeo no la presidente della commissione è una conservatrice tedesca prima di lei c'era un conservatore lussemburghese espressione del mondo della finanza e così via il vicepresidente è un socialdemocratico olandese Timmermans quello con la delega al Green Deal peraltro per cui non è che l'infatuazione passeggera di una istituzione europea spostata con gli equilibri verso il mondo ambientalista no loro stessi hanno capito le cose che abbiamo appena condiviso cioè che l'unico modo per l'Europa per salvare il proprio sistema produttivo è passare all'economia circolare no ora poi come si estrinseca questa cosa ma il nostro governo l'ha capita perché mi pare sono l'attore sei un po' restio hai detto di parlare di politica però mi pare che il problema possa essere esattamente questo abbiamo un governo che su questa cosa non ci sente molto per cui certo viene passata e questo mi sto chiedendo se appunto questo ci mette anche difficoltà rispetto alle normative europee che noi dovremmo rispettare e ci arriverò adesso alle procedure di infrazione che però non sono una caratteristica di questo governo cioè le procedure di infrazione in corso sono colpa di quelli precedenti ecco giusto per distribuire le colpe poi intendiamoci non è una specificità solo italiana la procedura di infrazione l'Italia è il paese col più alto numero di procedure di infrazione nel settore ambientale molte di queste però non sono legate all'economia circolare alla gestione dei rifiuti sono legate ad esempio alla depurazione delle acque e così via nel caso della gestione dei rifiuti ce n'è una clamorosa che riguarda le discariche ma molti la usano malandrinamente per dire ah vedete l'Europa ci dice che non dobbiamo fare più discariche quindi dobbiamo fare tanti inceneritori dicono a parte che con l'inceneritore non sparisce la discarica come abbiamo scientificamente dimostrato con il nostro ultimo studio di Zero West Europe che abbiamo eloquentemente titolato la polvere sotto il tappeto perché ci sono 30 milioni di tonnellate di scorie pesanti e ceneri volanti che derivano dall'inceneritore dagli inceneritori a livello europeo e la metà di questi vanno a finire in discarica no? se posso trovare c'è un sito dove ci sono questi vostri assolutamente sì dal nostro sito basta che cercate incineration residues Zero West Europe vi porta direttamente alla pagina i documenti possono essere scaricati gratuitamente ne ha parlato anche la stampa nazionale fatto quotidiano ci ha fatto una bella paginata su questa cosa ad esempio però io adesso non volevo dilungarmi nella direzione dell'incenerimento no 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 il tema era l'infrazione maggiore sul tema gestione dei rifiuti è relativo alla mancanza di allineamento delle discariche con i requisiti della direttiva discarica che è una direttiva del 99 in particolare la procedura più grossa era stata per la grande discarica di Mala Grotta a Roma io lì ho fatto da tecnico a supporto delle valutazioni europee quindi ne conosco benissimo tutti i connotati di quella procedura di infrazione lì era per la mancanza di pretrattamento perché la direttiva discariche dal 1999 prevede l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti che devono andare in discarica quanto l'Europa non solo vuole che le discariche siano sempre meno e sempre più piccole ma anche che siano meno impattanti il maggiore impatto delle discariche deriva dalla fermentazione nel corpo della discarica di rifiuto biodegradabile col pretrattamento questa cosa può essere annullata e il pretrattamento può essere biologico non è detto che debba per forza essere di tipo termico ma può essere anche un trattamento biologico che ugualmente arriva ad annullare le emissioni fuggitive di metano però vediamo prima di parlare delle infrazioni parliamo di come vengono formate le normative a livello europeo allora vi ho già detto che il percorso per arrivare a Dama con una direttiva o un regolamento è un percorso molto lungo la differenza tra direttiva e regolamento è che la direttiva deve essere recepita in ambito nazionale quindi c'è uno spazio di manovra per i paesi membri il regolamento invece si applica così com'è nella legislazione di diversi paesi deve essere solamente tradotto c'è stata una discussione anzi c'è una discussione in corso ad esempio perché ultimamente l'Unione Europea la direttiva sugli imballaggi ha proposto di trasformarla in un regolamento rendendolo immediatamente applicativo nei diversi paesi membri e io sono arci sicuro che quando ho preso questa decisione avevano in mente proprio i pasticci fatti dall'Italia che aveva usato malissimo i suoi spazi di manovra con la precedente iniziativa cioè la direttiva sulle plastiche monouso che è stata recepita in maniera pasticciatissima in Italia tant'è vero che c'è già stato il primo passo di una possibile procedura di infrazione che è l'opinione ragionata cioè una segnalazione che arriva da Bruxelles e dice al governo italiano guardate che in questo e questo punto noi riteniamo che il vostro recepimento non sia allineato con la direttiva quindi fateci avere le vostre contradiluzioni altrimenti andremo avanti con la procedura di infrazione e quando poi la cosa arriva a Dama cioè la Corte di Giustizia europea vengono definite le multe che sono multe di centinaia di milioni di euro all'anno non sono robe di poco conto fatto sta che sia che si tratti di una direttiva sia che si tratti di un regolamento le istituzioni europee non gestiscono in sede monocratica come invece spesso avviene in Italia cioè in sede monocratica non avviene dalle nostre parti avviene in altre parti del mondo però in Italia spesso il procedimento è semplificato sì il governo decide ha una sua linea politica fa la proposta se vede che il Parlamento non è d'accordo mette la fiducia amen in quella cosa su quella cosa riescono ad influire le lobby più o meno strutturate questo è già un percorso che in sé ha una bozza di partecipazione dei portatori di interesse ma a livello europeo questo è tutto molto più strutturato ed è codificato cioè in genere la Commissione Europea fa degli studi preliminari sulla base di questi studi preliminari che riguardano gli effetti economici gli effetti occupazionali gli effetti ambientali quindi non solo quelli ambientali ma anche quelli economici ed occupazionali alla fine la Commissione Europea confezione una proposta questa è la partenza del percorso questa proposta è corredata dal cosiddetto EXIA Extended Impact Assessment alla valutazione strategica di tutti gli effetti e viene aperta alla discussione di tutti gli stakeholders i portatori di interesse e viene mandata al Parlamento e al Consiglio il Parlamento fa le sue discussioni nelle commissioni rilevanti di volta in volta Commissione Energia Commissione Ambiente Commissione Sanità perché ad esempio se parliamo di imballaggi per gli imballaggi a contatto alimentare c'è anche una voce in capitoli da parte della Commissione Sanità poi arriva la votazione in plenaria quindi nell'emiciclo parlamentare e con questa votazione in plenaria definisce il mandato ai propri rappresentanti per la fase finale di discussione la stessa cosa fa il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo in genere il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo è quello più permeabile ai lavori delle lobby perché è la rappresentanza dei singoli governi in genere l'Europarlamento è quello più ambientalista il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo è quello che tira un po' più indietro e la Commissione si trova a mediare questa è tipicamente non sempre ma tipicamente questa qui è la la dislocazione delle tre istituzioni europee fatto sta che una volta che il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo ha definito il suo mandato l'Europarlamento ha definito il suo mandato si trovano Europarlamento Consiglio dei Capi di Stato e di Governo e Commissione Europea per il trilogo la trilaterazione finale delle decisioni e con quella cosa si arriva al testo finale che viene approvato ecco in tutta questa cosa c'è piena trasparenza degli atti possibilità degli stakeholders dei portatori di interesse quindi non solo gli ambientalisti ma anche il mondo dell'industria che ha voglia di piangere in greco anche loro possono partecipare ma se i loro argomenti non sono convincenti se ne devono fare una ragione prima o poi se ne devono fare una ragione quindi è un percorso del tutto trasparente del tutto democratico io davvero dico sempre quando mi dico una proposta ideologica dell'Unione Europea dico ma magari in Italia avessimo un processo così strutturato di formazione delle decisioni bene ora a questo punto vabbè qual è la situazione insomma rispetto alle norme che come hai detto tu ben pensate e progettate anche con indicazioni chiare con obiettivi chiari che tutti i paesi hanno condiviso a che punto siamo ogni anno l'ISFRA questo centro studi elabora i dati sia a livello europeo sia a livello italiano sulla gestione appunto dei materiali post-consumo ci puoi dare un po' la situazione in Europa e ovviamente ancora di più in Italia a che punto siamo sì allora a livello europeo beh ci sono delle larghe differenze ci sono anche in Italia a livello europeo sono ancora più accentuate perché in Italia ad esempio tra le regioni più performanti che non è più solo il Veneto ma è Veneto e Sardegna e se ho visto sono al 75% di raccolta differenziata e la regione meno performante che è la Sicilia che è al 45% di raccolta differenziata non c'è la stessa differenza che invece vediamo a livello europeo perché a livello europeo il paese più avanzato è la Slovenia non è più la Germania la Slovenia per un semplice motivo che nel 2014 feci personalmente una campagna in Slovenia mi ricordo quando andai lì parlai col sindaco di Lubiana con i funzionari del ministero dell'ambiente eccetera eccetera e li convincemo a non costruire l'inceneritore di Lubiana grazie a quella scelta loro hanno mantenuto il sistema pienamente flessibile e continuano a lavorare sui gradini più elevati della gerarchia cioè programmi di riduzione centri di riuso sistemi incentivanti per la raccolta differenziata nel 2020 hanno superato la Germania come paese leader in Europa e nel mondo la Slovenia attualmente deve essere attorno al 72-73% di raccolta differenziata i paesi meno performanti sono alcuni paesi dell'Europa centro-orientale presumo che sia la Bulgaria adesso che probabilmente attorno al 15% 20% di raccolta differenziata attenzione perché essere al 15-20% significa essere sotto gli obiettivi che erano già stati stabiliti per il 2020 dalla precedente direttiva che prevedeva il 50% di raccolta differenziata cosa che noi abbiamo conseguito per i paesi che non ci sono riusciti è intervenuto il cosiddetto early warning cioè non interviene subito una misura sanzionatoria prima era così poi però il processo sarebbe ingovernabile viste le grandi differenze a livello europeo allora è intervenuto anzitutto un early warning early warning significa l'avviso anticipato la Corte di Giustizia europea dice questi paesi non stanno rispettando gli obiettivi di questa direttiva li avvisiamo e mettiamo in atto cioè gli chiediamo di mettere in atto delle azioni per cercare di allinearsi il prima possibile e mettiamo a disposizione delle energie delle risorse delle competenze a livello europeo per aiutarli tant'è vero che io stesso ho partecipato ad alcune delle iniziative che la Commissione europea chiama Directive Compliance Initiative iniziativa di conseguimento degli obiettivi previsti da una certa direttiva noi siamo stati a Sofia siamo stati a Lisbona siamo stati a Bucarest siamo stati ad Atene a dire ai decisori locali guardate dovreste fare così e oggettivamente gli esempi italiani vengono benissimo perché fino a quando gli si parla di Svezia che tra l'altro fa schifo e fa peggio molto peggio dell'Italia perché hanno troppi inceneritori o gli parliamo di Germania i greci ti dicono sì ma noi non siamo tedeschi invece se gli parli dell'Italia dicono una faccia una razza voi sapete tutti quanti siamo andati prima o poi a fare le vacanze in Grecia la prima cosa che ti dicono una faccia una razza quindi dicono se lo fanno gli italiani lo possiamo fare anche noi e quindi la cosa è una cosa intrigante interessante questa è la situazione a livello europeo l'Europa però non si accontenta di quello che fa la Sdovenia o di quello che fa la Germania o di quello che fa la stessa Italia perché i nuovi obiettivi voi sapete che sono a medio termine il 65% di si parla di preparazione per il riuso e il riciclo quindi recupero netto di materia che avvenga tramite riuso o tramite riciclo non è più un obiettivo di raccolta differenziata quindi noi sappiamo che per arrivare al 65% al 2035 bisognerà fare tra il 75% e l'80% di raccolta differenziata molti diranno ma non è possibile tra di noi no all'esterno le nostre contropartie ma non è possibile invece sì perché lo stanno dimostrando tantissime situazioni incluse situazioni ad elevata densità abitativa ho citato Parma ad esempio poi vedremo magari quelli che sono gli strumenti per muoversi sempre più in là a livello nazionale l'Italia è un caso interessante anzitutto ho già avuto modo di citare la Sardegna ma ci torno fra poco sulla Sardegna l'Italia era uno dei cosiddetti laggars i ritardatari quelli che stavano indietro e quindi stavamo puntualmente dietro la lavagna col cappello dell'asino eccetera eccetera io mi ricordo ancora l'ultima volta è stata attorno al 2015 che feci da supporto tecnico ad una missione della Commissione Europea al Ministero dell'Ambiente italiano per una di queste directive compliance initiatives iniziative di allineamento con gli obiettivi previsti dalla direttiva cioè l'Italia era ancora tra quelli che dovevano imparare nel 2015 devo dire che la situazione fu interessante perché nel 2015 gran parte del cambiamento a livello nazionale già c'era stato e quindi il Ministero contestava ah ma perché state venendo da noi alla fine il rappresentante della Commissione glielo disse cioè scusate una situazione che ha avuto la crisi dei rifiuti a Napoli la crisi dei rifiuti a Roma la crisi dei rifiuti a Milano è bene che comunque faccia un po' di brainstorming su questa cosa anche se poi io ero lì a confermare sì è vero l'Italia intanto ha fatto dei passi da gigante sulla raccolta differenziata ma nella media nazionale poi ci sono le aree di arretratezza un dato ve l'ho già detto cioè le regioni più performanti che non è più solamente il nord-est d'Italia ma anche la Sardegna la Sardegna è un altro caso interessante ve lo stavo dicendo perché era la regione più arretrata all'inizio degli anni 2000 ancora meno della Sicilia faceva il 3% di raccolta differenziata e adesso è al 75% e contende al Veneto il ruolo di regione leader a livello mondiale non solamente nazionale ed europeo sulla raccolta differenziata perché? perché hanno individuato nel piano a partire dal 2005 a 2008 se non ricordo male hanno individuato degli strumenti incentivanti in particolare ma non solo sulla raccolta dell'organico cioè avevano un meccanismo premiale e punitivo per cui dicevano questi sono gli obiettivi di raccolta differenziata complessiva di raccolta dell'organico di qualità dell'organico se li raggiungi tu avrai uno sconto sul conferimento del tuo rifiuto residuo agli impianti di smaltimento se non li raggiungi vieni penalizzato e la penalizzazione è tanto più alta quanto più sei lontano dall'obiettivo questo è una scelta regionale scusami era stata una scelta regionale sì sì la regione Sardegna questo è un meccanismo a costo zero per le casse regionali perché c'era una sorta di camera di compensazione di premi e punizioni e ha fatto spostare tutti i comuni verso la raccolta porta a porta la tariffazione puntuale la raccolta fatta bene dell'organico con i sacchetti compostabili eccetera 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 cosa che ha portato la Sardegna in pochi anni a diventare una delle regioni guida loro non si accontentano nell'ultimo piano regionale hanno definito un obiettivo dell'ordine dell'83-84% vado a memoria entro il 2025 ed è probabile che ci arrivino posso condividere una slide con voi certo certo volentieri perché mi sono preparato qualche slide di supporto altrimenti rischio poi di diventare noioso allora la slide era questa no non questa scusate ecco qua questi sono i dati di sintesi allora l'Italia ha tra l'altro un sistema di statistico un sistema statistico relativo ai rifiuti che è uno dei più avanzati è vero cioè io faccio fatica negli altri paesi europei a trovare una granularità un dettaglio dell'informazione così elevato davvero ISPRA su questo sta facendo un lavoro impressionante è il catastro nazionale dei rifiuti i dati sono liberamente accessibili io quando escono i dati e tipicamente escono un anno e qualche mese dopo cioè adesso a fine no un po' meno di un anno dopo a fine 2023 dovremmo avere i dati 2022 per il momento abbiamo quelli del 2021 non li ho ancora filtrati perché sono usciti a dicembre del del 2022 ho filtrato però quelli del 2020 l'ho fatto dal 2016 in poi questo lavoro e qua ci sono i dati di sintesi la raccolta differenziata nel 2020 era il 63 adesso siamo al 64 virgola qualcosa come media nazionale ma su 107 province 57 province hanno superato il nostro obiettivo nazionale di raccolta differenziata non di riciclo netto che era del 65% al 2012 adesso lasciamo perdere che mancano ancora 50 province e bla 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 però 65% è un livello elevato non molte conteo prefetture o regioni o oblast come li chiamano nei vari paesi europei sono a questo livello di raccolta differenziata le 6 province più performanti sopra l'80% Treviso già nel 2020 era l'88% ma adesso è l'89,8% cioè il 90% come provincia è una provincia di un milione di abitanti Treviso con circa 100 comuni 6 regioni erano sopra il 70% il dato interessante è quello comunale perché poi sappiamo che le decisioni vengono prese dai sindaci tant'è vero che noi come rifiuti zero lavoriamo eminentemente a livello comunale poi ci viene l'allineamento dei pianeti ad esempio il consorzio Contarina consorzio campione rifiuti zero a livello mondiale che ha deciso di aderire alla strategia rifiuti zero nel suo insieme sono 55 comuni 500.000 abitanti incluso il capoluogo e loro hanno una media che è sopra il 90% però in genere è il singolo comune quindi uno si può trovare ad esempio in Sicilia in una situazione mediamente deprimente però si può trovare il comune di Alcamo che è un comune di media grande dimensione 50-60.000 abitanti AC Castello nel Catanese Montelepre che è un comune che purtroppo deve il suo nome alla storia della mafia e quant'altro ma che ha fatto dei passi da gigante sui percorsi rifiuti zero ed è stato premiato come comune più virtuoso d'Italia un paio d'anni fa quindi per noi è importante vedere quello che si può fare a livello comunale anche perché il fatto di avere un comune che in Sicilia fa quelle cose ci consente di dire agli altri comuni quindi non è che i siciliani sono stupidi o stronzi si può fare perché piuttosto perché non lo fate pure voi noi abbiamo già più del 50% dei comuni 4.062 comuni nel 2020 sopra il 70% la cosa interessante 165 comuni sopra il 90% voi che siete attenti a questi temi probabilmente vi siete accorti che tarsicamente periodicamente sulla stampa internazionale e quindi anche su quella nazionale viene fuori il villaggetto del Giappone che quasi ha rifiuti zero bene noi li conosciamo e li adoriamo e tifiamo per loro così come loro tifano per noi ma loro fanno l'85% di raccolta differenziata in un comune di 3.000 abitanti semplicemente con un sistema a consegna presso la piattaforma comunale dove separano 28 tipologie di materiale noi con un sistema molto più semplice basato su 5 frazioni porta a porta umido vetro carta plastica e metalli insieme e rifiuto residuo e abbiamo 165 comuni sopra il 90% di raccolta differenziata un altro segno della trasformazione che c'è stata in Italia poi a noi piace usare un altro parametro perché voi intuirete abbastanza facilmente se noi parliamo solamente di percentuali di raccolta differenziata allora magari il sindaco non mi promuove delle iniziative di riduzione perché dice mi tolgono materiale dalle percentuali di raccolta differenziata questo è il caso tipicamente del compostaggio domestico anche se il compostaggio domestico può essere adesso computato come riciclo io non sono d'accordo ma la metodologia europea per il calcolo consente di computare anche il compostaggio domestico come riciclo oppure dice ma non promuovo l'acqua in caraffa riusabile con l'acqua dal rubinetto perché mi toglie plastica dalle percentuali di raccolta differenziata noi invece diciamo che la vera metrica della sostenibilità dovrebbe essere la minimizzazione del rifiuto residuo in chilogrammi abitante anno questo è per noi il principale obiettivo perché questo è un parametro che mi tiene bene insieme gli sforzi su riduzione riuso e raccolta differenziata e allora vediamo un attimino nel 2020 2800 comuni cioè circa più del 30% dei comuni 2600 comuni sarebbero il 30% erano già sotto i 100 kg abitanti anno di rifiuto residuo 1260 sotto i 70 kg 386 sotto i 50 kg e 39 comuni addirittura sotto i 30 kg abitanti anno di rifiuto residuo cosa si intende per rifiuto residuo il rifiuto residuo è quello che sta nel sacco nero dell'indifferenziato residuo non solo gli amici in Contarina ad esempio computano in quello anche lo spazzamento stradale il 50% degli ingombranti perché non viene recuperato e quindi avere i 50 kg abitanti anno di quello quando sapete che la produzione media di rifiuto a livello europeo è 500 kg vuol dire che abbiamo fatto una lunghissima via verso la virtù no? perché siamo riusciti ad abbassare a un decimo quello che era l'ammontare complessivo di rifiuto urbano pro capite senti la ricetta allora per ottenere quindi diciamo così mi sembra di capire che tutto sommato l'Italia abbia delle buone performance insomma non possiamo lamentarci forse addirittura possiamo anche essere ad esempio mi sembra che tu abbia detto volevo capire secondo te qual è la ricetta che sta funzionando e che potrebbe funzionare volevo solo accennarti che noi a Genova insomma abbiamo un po' di difficoltà quindi volevo capire ah lo so bene lo so bene perché sono un appassionato di geografia del rifiuto no guardate la ricetta è semplice tanto cosa ha funzionato appunto a livello vabbè anche a livello europeo ma in particolare a livello italiano e appunto cosa potremmo fare per sì la ricetta è molto semplice l'elemento la spina dorsale della virtù in questi casi è la raccolta domiciliare per capirci la raccolta com'è? il porta porta il porta porta il porta porta nelle sue varie declinazioni poi in Italia ne abbiamo fatto una lo so benissimo se volete poi discutiamo delle resistenze io intanto mi avete chiesto che cosa bisogna fare però lo fa Milano 1.400.000 abitanti 800.000 pendolari 21 milioni di visitatori all'anno si può fare possiamo anticipare il prossimo appuntamento abbiamo un incontro con la presentante del comune di Milano e di Genova e metteremo a confronto queste due realtà ovviamente come avete sì so anche che Danilo Vismara che vi ho suggerito di invitare perché la persona che sovrintende i sistemi di raccolta differenziata a Milano rifugge da cose che diventino ingenerose verso i colleghi anche io farei lo stesso però se a lui gli chiedete ma parlaci di quello che fate a Milano allora verrà fuori spontaneamente il fatto che ci vuole il porta porta per arrivare sentiremo entrambi contemporaneamente allora comunque torniamo alla tua domanda porta porta con la separazione dell'organico e anche in questo caso il caso di Milano ci dimostra che è possibile anche nelle grandi città la separazione dell'organico attenzione che su questo noi abbiamo dei fronti aperti anche con altre grandi città europee noi in Zero West Europe abbiamo il network delle comunità rifiuti zero sono 500 circa a livello europeo gran parte sono in Italia perché sono più di 300 la cosa interessante è che nel centro Europa stanno aderendo soprattutto le grandi città la prima è stata Kiel che fa 250.000 abitanti in Germania adesso abbiamo Bruxelles stessa abbiamo Monaco di Baviera adesso Lipsia insomma ma che impegni prendono queste città? come? che impegni prendono poi i fattivi per capire un po' meglio sono gli impegni che noi chiediamo nel percorso di Fiuti Zero che sono anzitutto di fare la raccolta porta a porta ma da quelle parti la fanno di separare l'organico e qui invece comincia il confronto perché Bruxelles ancora non lo fa su tutta la città e dicono ma poi è possibile sì che è possibile è venuto il rappresentante di Bruxelles Environment che è l'assessorato municipale all'ambiente è venuto a novembre abbiamo avuto uno stadi tour in Italia abbiamo visto Milano e Contarina è venuto ha preso buona nota della cosa è tornato a Bruxelles e ha cominciato a parlarne con i suoi d'anticausa cioè il sindaco e l'assessore alla partita ma in genere il problema non sono i governi municipali il problema in genere sono le aziende che gestiscono il servizio perché è qui casca l'asino nel caso di Bruxelles come nel caso di Monaco di Bagliera quelle aziende gestiscono anche l'impianto di incenerimento ed ecco perché io che non sono partito da una posizione di campagne contro l'incenerimento io negli anni 90 quando ho cominciato a occuparmi di queste cose mi occupavo della parse construence cioè la raccolta differenziata il compostaggio e così via poi mi sono accorto che ovunque c'era un inceneritore si faceva il triplo di fatica a fare queste cose allora ho detto basta ho detto basta noi quello temiamo dell'incenerimento noi nei nostri ragionamenti in genere non partiamo da quello che è stato invece il tuo approccio al tema dell'incenerimento Federico cioè la tossicologia dell'incenerimento anche se sappiamo che il problema esiste tant'è vero che abbiamo pubblicato degli studi di biomonitoraggio attorno a tre inceneritori e attenzione perché poi ci dicono ah ma quelli erano gli inceneritori di 40 anni fa adesso questi sono moderni no inceneritori inaugurati nel 2021 come quello di Kaunas in Lituania e facendo il biomonitoraggio intorno ti rendi conto che i composti organici persistenti metalli pesanti siccome non si degradano si accumulano nello spazio vitale intorno all'inceneritore è quello lì il problema poi a noi ci parlano di concentrazioni ma io non respiro concentrazioni non mangio concentrazioni mangio nanogrammi grammi chilogrammi e tonnellate e quella la cosa importante perché è facile rispettare una concentrazione basta diluire basta aumentare il flusso d'aria ma il quantitativo complessivo della sostanza emessa rimane lo stesso e quello è il problema ora messo tra parentesi questo tema noi al tema dell'incenerimento ci siamo sempre approcciati come errore sistemico perché mi causa quello che si chiama lock-in ingessamento del sistema e a volte è un ingessamento addirittura contrattuale come è capitato ai comuni della Versilia che introdussero metà anni 2000 fine anni 2000 introdussero la raccolta porta a porta per rispettare l'obbligo di legge del 65% sono riuscite a rispettare l'obbligo ma hanno dovuto pagare le penali di contratto perché il contratto per l'inceneritore era un contratto vuoto per pieno e li costringeva a conferire un certo tonnellaggio 16 milioni di penali hanno dovuto pagare alla ditta che gestiva l'inceneritore nonostante quello sia stato un inceneritore che è stato chiuso perché sforava addirittura i limiti massimi ammessi per le diossine e i furani anche Genova ha corso questo rischio perché nel contratto l'abbiamo visto delle costruzioni e sì sono i vuoti per pieno è l'unico modo per sostenere un progetto di incenerimento perché l'incenerimento lo puoi fare il più moderno il più articolato il più complesso possibile ma è sempre una macchina stupida che sa fare una sola vuoto per pieno ma lo spieghi un po' meglio ti dispiace come? il termine è vuoto per pieno forse me lo spieghi un po' meglio ti dispiace sì vuoto per pieno oppure deliver or pay forse spiega meglio il termine inglese che deliver or pay cioè significa consegnaci quel tonnellaggio o comunque paga per quel tonnellaggio cioè nel contratto viene definito che i comuni di quell'area in solido oppure presi singolarmente i contratti spesso addirittura definiscono il tonnellaggio in relazione alla popolazione del singolo comune devono impegnarsi a conferire quel certo quantitativo di rifiuto residuo per i 20-30 anni del piano industriale perché è l'unico modo per garantire il cosiddetto payback cioè il ritorno degli investimenti l'inceneritore è una macchina molto capital intensive cioè il costo di investimento sta tra 1000-1500 euro per ogni tonnellata anno di capacità installata l'inceneritore dà 500.000 tonnellate viene a costare tra 500 e 700 milioni di euro e l'unico modo per garantire il ritorno di questi investimenti è il contratto vuoto per pieno che rallenta l'evoluzione poi del sistema quindi per tornare al tema delle città del nord Europa spesso troviamo questo problema che i sindaci gli assessori sono entusiasti sì vogliamo fare rifiuti zero eccetera eccetera poi dicono parlate con il nostro gestore del servizio e lì cominciano i problemi Monaco di Bagliera ha la raccolta dell'umido ha la raccolta porta a porta di tutte le frazioni ha anche la raccolta dell'umido ma raccoglie solamente 14 kg abitante anno lì c'è una cattiva progettazione del sistema perché Milano raccoglie 105 kg abitante anno noi gli abbiamo detto quelle che sono le cose da fare lavorare sul design del sistema le frequenze di raccolta i sacchetti compostabili ma si bolla poi capisci che in fondo ci si staglia l'ombra dell'inceneritore hanno bisogno di quei quantitativi da portare all'inceneritore ora per tornare alla tua domanda che era cosa bisogna fare io ho già detto il ruolo fondamentale la spina dorsale è la raccolta porta a porta con separazione dell'organico perché questa è la cosa che fa fare il grande salto a seconda delle situazioni separazione per l'organico anche lì forse mi chiedevano qui dalla sala ma è meglio chiarirlo cosa vuol dire di fatto la raccolta differenziata del materiale compostabile quindi lo scarto di cucina e lo scarto di giardino lo scarto di cucina deve stare da parte esattamente non deve essere solo lo scarto di giardino ma anche lo scarto di cucina lo scarto di cucina il cosiddetto umido l'umido l'umido perché lo scarto di cucina ha una importanza che è doppia anzitutto quantitativa cioè è ancora la frazione preponderante nel nostro rifiuto urbano con percentuali che variano da contesti cittadini a contesti rurali dal nord Europa al sud Europa ma da noi spessissimo si trova più del 40 del 50 addirittura del 60% in alcuni contesti rurali in Italia centro meridionale quindi senza quello non riesco poi arrivare al fatidico 65% di preparazione per il riuso e il riciclo ma non c'è solo l'importanza quantitativa c'è anche un'importanza operativa cioè se io riesco a catturare bene l'organico e quindi impoverisco il rifiuto residuo di organico allora posso ridurre drasticamente le frequenze di raccolta del rifiuto residuo il che ha due effetti virtuosi prima di tutto risparmio soldi cioè con la riduzione delle frequenze di raccolta del rifiuto residuo mi pago l'introduzione della raccolta dell'organico secondariamente io ho un effetto di traino anche sulle raccolte differenziate e gli altri materiali perché se io l'organico non lo raccolgo tre volte cioè se io rifiuto residuo non lo raccolgo tre volte a settimana ma solo una volta a settimana o addirittura ogni due settimane o come fanno in contarina cinque volte sei volte all'anno allora la gente sarà molto più contenta di separare la carta il vetro la plastica in metallo perché quello viene asportato più frequentemente evidentemente cioè è una cosa intuitiva questa ecco la centralità della raccolta dell'organico ora con la raccolta porta a porta in cui si è inclusa anche la separazione dello scarto di cucina io a seconda delle situazioni arrivo al 60 70 80% di raccolta differenziata si può essere già contenti si può già festeggiare ma noi siamo contenti ma mai soddisfatti e quindi si può andare anche oltre come il passo successivo è l'introduzione dei sistemi di tarifazione puntuale la tarifazione puntuale abbiamo visto che in media e tipicamente abbatte del 50% il quantitativo del rifiuto residuo quindi se rial 60% vai all'80 se rial 70% vai all'85 e così via ci spieghi anche cos'è questa tarifazione puntuale scusami con la tarifazione noi siamo tutti esperti di tari perché ognuno di noi ha una casa e deve pagare la tari a meno che non ne sia proprietario se sei affittuario penso che sia il proprietario a doverla pagare non lo so perché io sono proprietario della mia casa però la tari la tassa rifiuti nella maggioranza dei comuni italiani la si paga come una tassa di proprietà cioè vengono definiti dei parametri nel regolamento comunale sulla tassa rifiuti che rappresentano quanto bisogna pagare per ogni metro quadro di ampiezza del proprio appartamento sostanzialmente la stessa cosa la si fa per le attività produttive inserite nel perimetro del rifiuto urbano cioè i ristoranti le mense le panetterie i piccoli negozi e così via in quel caso loro hanno dei coefficienti specifici per attività produttiva che parimenti vengono moltiplicati per l'ampiezza del punto vendita quindi questa è una cosa che non incentiva la singola famiglia o il singolo esercente a differenziare meglio perché lui deve comunque pagare quello in relazione all'ampiezza del proprio appartamento invece con la tariffazione puntuale si paga nel sistema italiano all'estero può essere diverso ma anche in questo l'Italia ha perfezionato il sistema forse perché siamo partiti dopo abbiamo applicato la tecnica dei giapponesi che vanno in giro per il mondo vedono quello che fanno gli altri e lo migliorano e noi abbiamo fatto la stessa cosa il nostro sistema è più performante anche sulla tariffazione puntuale in Italia tipicamente noi facciamo pagare di più o di meno in relazione a quante volte esponi il sacco o il bidone per il rifiuto residuo e questo è semplificando poi nella tariffazione puntuale c'è una parte fissa una parte variabile la parte fissa serve anche a evitare e ci riusciamo bene il fenomeno dello smaltimento abusivo perché chiaramente quando si parla di tariffazione puntuale alcuni di voi potranno pensare ah beh ma allora la gente va a buttare nei boschi non succede questo perché con una buona ingegnerizzazione contabile del sistema si riesce a mantenere la parte incentivante sufficientemente alta da premiare il comportamento virtuoso ma sufficientemente bassa da prevenire il comportamento deteriore in modo che nessuno si fa 40 km in macchina per andare a buttare in un posto in cui non viene osservato da nessuno il sacchetto semplicemente adotta la virtù e sta più attento in sede di acquisto e più attento in sede di separazione di materiale a casa con la tariffazione puntuale io riesco tipicamente a dimezzare il quantitativo di rifiuto residuo vi faccio vedere anche qua una slide dove è stato fatto quindi qualche realtà italiana dove in Italia abbiamo già circa il 20% di comuni circa 1500 che hanno la tariffazione puntuale un attimo che vado a condividere allora ecco siamo qua la vedete? sì però mi ha preso di nuovo quello di prima allora eccoci qua allora questo è l'eco sacco sacco prepagato un sistema molto semplice per introdurre la tariffazione puntuale lo fanno diversi comuni un po' dispersi in varie aree del centro nord cioè praticamente in questo sistema il rifiuto residuo deve essere conferito solamente in un sacco conforme che viene distribuito dal comune o presso la sede comunale se il comune è piccolo o con delle macchinette che distribuiscono i sacchi dietro pagamento degli stessi e ovviamente il costo del sacco non è solamente il costo della plastica ma è anche il costo della gestione del materiale che è inserito all'interno di quel sacco ok un sistema un po' più evoluto è quest'altro questo qui è il caso di Parma proprio città di 200.000 abitanti che sta all'82% di raccolta differenziata e ha il record europeo tra le città di quella dimensione in questo caso è un sistema basato su sistemi a radiofrequenza cioè il rifiuto residuo viene raccolto o in sacchi che vedete qua o in mastelli che vedete qua vedete questo codice a barre e c'è un sistema radiofrequenza in realtà che un'antenna sul mezzo di raccolta che va a rilevare che è stato effettuato un prelievo di rifiuto residuo da quell'utenza quindi si fa poi la lista del numero dei conferimenti su base semestrale o su base annuale e poi si fa il conguaglio questa cosa è quello che consente poi di fare un ulteriore ma importantissimo passo verso la virtù quando si introdotta poi la raccolta porta a porta e la tariffazione puntuale a quel punto noi possiamo aggredire con molta più serenità l'area del cosiddetto rifiuto residuo perché in quello ci sarà pochissimo materiale ancora riciclabile e compostabile in quanto la gente si sarà abituata a differenziare tutto il differenziabile e quello che avanza può essere oggetto di quello che noi chiamiamo la riprogettazione il redesign è l'altra R importante nei sistemi rifiuti zero perché non è solamente riduci riusa ricicla ma c'è anche riprogetta continuamente il tuo sistema se volete un esempio ad esempio vi faccio questo esempio perché facendo le analisi del rifiuto residuo nelle nei comuni rifiuti zero ci siamo accorti di una presenza importante progressivamente in aumento di capsule di caffè ora è chiaro che noi in Italia adoriamo i vecchi sistemi per farci il caffè con la moca così via con la napoletana però dobbiamo accettare anche le sfide della vita moderna cioè noi non ci poniamo mai nell'ottica di obbligare se la cosa incide troppo sulle scelte e i comportamenti del consumatore chiaramente se una cosa è pericolosa per la salute o per l'ambiente lì si può vietare ed obbligare quello non è un problema però in questo caso è difficile dire no è un impatto ambientale ma è un impatto ambientale che può rimanere nelle scelte di consumo del consumatore va bene poi c'è tutta l'area degli uffici ad esempio negli uffici è difficile dire fatevi il caffè con la moca molti di loro hanno la macchinetta con la capsula di caffè ecco questo è interessante perché noi attorno al 2015 è stato se non ricordo male forse 2013 2014 abbiamo mandato una lettera proprio sulla base dell'analisi del rifiuto residuo all'associazione dei produttori di caffè a livello nazionale dicendo guardate il centro di ricerca rifiuti zero di Capannori fu un'iniziativa di Capannori questa e diciamo rappresentiamo una comunità che è già l'85% di raccolta differenziata abbiamo già fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità inclusa la raccolta porta a porta i centri del riuso la tariffazione puntuale e però nel muro per andare avanti ci troviamo anche le vostre capsule di caffè nel muro che dobbiamo superare quindi vi chiediamo di prendere responsabilità e di riprogettare nella direzione di un migliore recupero di questi materiali e cosa è venuto fuori la proposta delle capsule compostabili è partita proprio da una proposta di Capannori e la cosa è talmente logica talmente intelligente questo è un uso intelligente della plastica compostabile tra tanti usi non ponderati che abbiamo visto in giro questo invece intelligente assieme a quello dei sacchetti per la raccolta differenziata questa è stata una proposta talmente di successo che è stata messa all'interno della proposta per il regolamento europeo per gli imballaggi rifiuti di imballaggio da parte della commissione europea prevedendo addirittura l'obbligo che le bustine di tè e le capsule di caffè siano fatte in plastica compostabile o in carta perché così io le posso togliere dal sacchetto o dal bidone dell'indifferenziato e metterle con il compostabile che va all'impianto di compostaggio aiutandoci ad aumentare ulteriormente i tassi complessivi di recupero Volevo farti anche una domanda tu cosa ne pensi di questi cassonetti intelligenti che si stanno diffondendo dappertutto qui da noi ne possiamo un po' parlare perché secondo me ci sono delle aspettative che temo non saranno rispettate Qual è l'esperienza che tu hai su questa cosa? Allora tu mi hai chiesto cosa ne pensi tutto il male possibile noi li chiamiamo i cassonetti stupidi purtroppo il PNRR ha messo a disposizione una dotazione di spesa molto importante per questi sistemi li vengono chiamati sistemi informatizzati a supporto della raccolta in maniera poco ponderata poi quando vengono regalati i soldi in realtà non vengono regalati tre quarti e passa di quelli poi sono prestiti a restituzione non sono contributi a fondo perso da parte dell'Unione Europea però li paga il governo italiano non li pagano i diversi comuni beneficiari questo è il problema la distorsione che sta introducendo nei nostri paesaggi urbani dei sistemi che hanno già dimostrato ovunque i loro problemi anche qua se posso presentare una immagine se ce l'hai perché cominciamo a avere problemi anche da noi mi dispiace un po' di segnalare queste cose ma allora intorno ai cassonetti intelligenti si raccolgono scarti vari che non credo che siano da attribuire e hai già messo il dito nella piaga una delle piaghe dei cassonetti intelligenti ma noi abbiamo cominciato a raccogliere quelle che cambiamo le cartoline dall'Italia e mannaggia però accidenti ecco qua questo è un caso di un comune lombardo voghera vedete c'è un'esplosione del littering perché poi la gente percepisce quel punto come un punto di raccolta e dice ho dimenticato da essere a casa non si apre c'è un difetto perché ci sono poi difetti e c'è un problema di manutenzione di queste calotte e quindi non riesco ad aprire la calotta oppure il sacchetto è troppo grande per l'imbocco della calotta lo metto lì vicino tanto lo raccoglieranno allora con questi cassonetti si ha un'esplosione dell'impurità all'interno del materiale che viene raccolto tipicamente sopra il 20% e si ha un'esplosione dei costi costi che non vengono contabilizzati a progetto perché nessuno ti contabilizza l'esplosione del littering ma che poi i comuni devono affrontare in realtà su questo ci sono già dei report che con abbondanza di evidenze dimostrano quello che noi diciamo da tempo la rete rifiuti zero dell'Emilia Romagna li fa da tempo anno per anno fa la comparazione tra i comuni sulla base di diversi sistemi di raccolta differenziata perché l'Emilia Romagna perché l'Emilia Romagna è terra di frontiere da questo punto di vista la parte occidentale la parte emiliana ormai è passata quasi integralmente al porta a porta la parte orientale la parte romagnola sotto il dominio di Era e Era sta promuovendo questi sistemi che per loro fanno scopa perché dicono sì ma facciamo tanta raccolta differenziata poi il 25% sono in purità attorno c'è tutto il littering e così via così riescono a garantire i tonnellaggi agli inceneritori perché hanno anche tanti inceneritori da quelle parti e fatto sta che i report fatti dalla rete rifiuti zero dell'Emilia Romagna già da diversi anni e ogni anno sulla base dei dati ufficiali che sono inclusi nei report di ARPA dell'Emilia Romagna e di Aterser che è l'azienda d'ambito che governa il sistema di gestione dei rifiuti in Emilia Romagna e dimostrano la migliore qualità la minimizzazione del rifiuto residuo la riduzione del rifiuto urbano pro capite e la riduzione dei costi complessivi di gestione dei sistemi nei comuni che hanno il porta a porta rispetto ai comuni che hanno il cassonetto stradale solo che questa cosa purtroppo non si riesce a leggere in giro purtroppo quando ho letto il PNRR io ho detto lì ci saranno problemi e aggiungerei non ultimo la pulizia delle strade perché qui a Genova che li hanno introdotti da poco è un delirio ma guardate se volete avere un autorevole conferma di questa cosa basta chiedere al sindaco di Torino che un giorno si e l'altro pure ormai fa le sue intemerate sulla stampa locale contro IREN perché anche a Torino c'è IREN che ha deciso di introdurre questi sistemi del cavolo in gran parte dei quartieri Torino era la città guida a livello nazionale come raccolta differenziata quando Milano introdusse a partire dal 2012 il porta a porta per l'organico prese esempio da Torino che l'aveva già sul 50% della città poi è partito l'incenditore del gerbido qualche anno più tardi e Torino sta andando indietro anche grazie a questi sistemi del cavolo quindi tu mi stavi dicendo che queste cose sono state introdotte anche perché il PNRR prevede finanziamenti sì questo è un aspetto ha qualche aspetto positivo oppure no allora il PNRR in genere è positivo allora innanzitutto parliamo di dimensioni tolgo intanto quest'immagine ti prego allora il PNRR ha una dotazione complessiva di spesa di circa 200 miliardi non sono tutti regali da parte dell'Unione Europea c'è anche una parte di contributi a fondo perso da parte dell'Unione Europea la maggior parte però sono contributi che vanno restituiti ancorché a tasso agevolato negli anni a venire va bene però è la discussione che stanno facendo adesso in ambito governativo alcuni dicono ma pensiamoci perché forse alcune cose non ci servono poi più di tanto allora è inutile dire sì spendiamo gli sti soldi perché ci sono perché comunque li dovranno pagare i nostri figli poi le restituzioni di questi prestiti però questo è il ragionamento complessivo per la misura economia circolare la dotazione di spesa è di 2 miliardi quindi l'1% del totale del PNRR in realtà la gran parte di questa dotazione di spesa è a favore del completamento del sistema di riciclo in Italia centro-meridionale e si tratta essenzialmente di impianti di valorizzazione dell'organico perché l'Italia raccoglie già differenziatamente 8 milioni di tonnellate di organico al nord le capacità impiantistiche ci sono ci sono delle insufficienze impiantistiche clamorose in Campania in Sicilia e nel Lazio in seconda istanza e quindi in gran parte i 2 miliardi andranno in quella direzione poi però ha previsto allora una cosa importantissima del PNRR è stato che ha tenuto dichiaratamente fuori dalle misure di finanziamento l'incenerimento c'erano stati tentativi e da parte di qualche regione inclusa la Liguria di inserire l'incenerimento tra i progetti del PNRR io fu io stesso a segnalare agli amici del GCR dicendo guardate ho scoperto sta cosa o forse furono loro a dirmi ma è finanziabile sta cosa io ho presi la cosa e la mandai a Bruxelles perché sapevo già che negli uffici della Commissione Europea ci avrebbero messo un nanosecondo anzi diciamo un minuto di grasse risate e poi un nanosecondo per dire no guardate non ci provate perché non è possibile sulla base di un principio che è il principio DNS H non vi ho già parlato del DNS H come? mi pare di no ecco il DNS H si l'avevi menzionato al volo prima e quello non creare un danno significativo all'economia circolare esatto ve l'ho detto prima che l'incenerimento non fa parte dell'economia circolare quindi il DNS H è quello che ha tenuto l'incenerimento ai margini delle possibilità di finanziamento e ha fermato i progetti di questo tipo che erano uno in Veneto uno in Liguria uno in Puglia ricordo bene vado a memoria purtroppo però sono stati dichiarati ammissibili i progetti di teleriscaldamento perché sono stati considerati come misure di efficientamento della distribuzione energetica anche se noi abbiamo fatto le nostre obiezioni abbiamo detto però attenzione perché questo rischia di far rientrare dalla finestra quello che abbiamo espulso dalla porta cioè la possibilità di contribuire ai piani industriali dell'incenerimento i progetti di teleriscaldamento hanno anche loro un costo elevatissimo parliamo dell'ordine delle decine se non centinaia di milioni di euro e se glieli paghiamo noi poi abbassiamo il costo complessivo dell'incenerimento e in più dal punto di vista strategico il teleriscaldamento connette un territorio permanentemente ad una fonte di produzione energetica che è in gran parte fossile perché l'inceneritore brucia plastica e tessili artificiali oltre alla parte biogenica del rifiuto cioè l'organico che è sfuggito alla raccolta differenziata e la carta che è sfuggita alla raccolta differenziata questo significa produrre energia dall'incenerimento emettendo un'idea carbonica fossile il che va contro l'agenda della decarbonizzazione che abbiamo in Europa perché l'Europa vuole diventare climate neutral al 2050 vuole raggiungere il punto di neutralità climatica motivo per il quale tra l'altro la Danimarca che tutti ci rappresentano il modello danese della gestione di rifiuti ma loro sono dei sommari è l'ultimo paese cioè dalla Danimarca seguirei le politiche di sostenibilità per la mobilità sostenibile per la produzione energetica ma non per la gestione dei rifiuti loro stessi si sono accorti di aver fatto dei grandi errori e hanno ad esempio adottato un piano di decommissioning per iniziare del 30% della capacità di incenerimento proprio per ridurre le emissioni di energia carbonica altrimenti non riescono a rispettare i loro impegni sulla decarbonizzazione stessa cosa le fiandre addirittura il 50% della capacità di incenerimento questo sta diventando il vero e proprio elefante nella stanza per le strategie di incenerimento perché c'è un problema che è strutturale per l'incenerimento brucia plastica brucia tessili artificiali e quando si dice sì ma la plastica io la differenzio è peccato che c'è il grosso problema della plastica non da imballaggio gli scopini le scope gli spazi inadenti i giocattoli quelli non li possiamo mettere nella raccolta differenziata della plastica perché non sono soggetti ad EPR dove li mettiamo nel rifiuto residuo e quindi viene incenerito se c'è un inceneritore senti possiamo forse avviare un po' verso la conclusione quali sono questi ci sono diciamo qualche prospettiva di nuove tecnologie nuove cose che sono appunto stanno per partire che potrebbero dare un impulso ulteriore appunto per ottenere questo rifiuto zero sì beh se devo individuare un settore io negli ultimi anni mi sono occupato in modo crescente del tema della dispersione della plastica tema che condivido con Andrea allora ho partecipato anche a ho partecipato anche a alcuni degli studi fondamentali a livello internazionale ho fatto parte dell'expert panel che ha fatto quello studio fatto dalla Pew Trust è una fondazione americana di filantropi che è uscito nel 2020 è stato echeggiato molto anche sui media nazionali da noi e diceva un panel di esperti internazionali di cui faceva parte anche uno studioso italiano che il sottoscritto quando l'ha letto mia madre ha detto ma non ti facevo così studioso quando in realtà andavi alle scuole medie non eri così studioso ti devi ricredere mamma avevamo comunque modellizzato cosa succede secondo il cosiddetto business as usual cioè mantenendo le attuali condizioni e attualmente la dispersione della plastica nei nostri mari e nei nostri oceani sono 10 milioni di tonnellate all'anno un camion al minuto un camion al minuto quindi in questi 90 minuti di chiacchierata è come se intanto 90 camion fossero stati sversati deliberatamente nei nostri mari tanto che l'ubiquità del problema perché poi la plastica diventa si frammenta diventano microplastiche entra nella catena alimentare entra nell'acqua che beviamo nell'aria che respiriamo e così via è stata trovata nella placenta umana è stata trovata nel nostro sangue nei nostri polmoni dappertutto è stato calcolato che ingeriamo 5 grammi di plastica pro capite a settimana una tessera di banco ma questo è quello che il nostro tributo alla ubiquità della plastica io poi non sono contro la plastica in sé ma contro la plastica monouso perché il computer da cui vi sto parlando è fatto in gran parte di plastica e va bene quello va bene plastica durevole non è incline alla dispersione l'importante alla fine del ciclo di vita recuperarla riciclarla e così via però c'è tanta plastica monouso che è fatta per stare nelle nostre mani qualche nanosecondo e poi finire negli incenditori nelle discariche o dispersa nell'ambiente e quello è il grosso problema nel nostro studio abbiamo visto che questo dato di 10 milioni di tonnellate sarebbe andato a triplicare entro il 2040 se non facciamo niente diventando 29 milioni di tonnellate all'anno e chiaramente le direttrici per affrontare il problema il problema è mastodontico e quindi va affrontato è un problema complesso e va affrontato con delle strategie articolate però abbiamo fatto anche i calcoli sulla capacità di impatto positivo delle diverse strategie per affrontare il problema e abbiamo visto che il maggiore contributo verrebbe dalle strategie di riduzione e di riuso poi dal miglioramento delle filiere del riciclo e anche perché ci deve essere anche questo un miglioramento dei sistemi formali di raccolta dei rifiuti urbani in molti paesi del mondo perché il grosso problema è che noi li stiamo inondando di plastica mononuso ma la colpa è nostra non è loro è la Coca Cola la Unilever la Nestlé la Perfetti che è una ditta italiana italo-olandese adesso perché Perfetti van Linde e che fa le carte per le caramelle per i cioccolatini e poi va a finire in Thailandia in Thailandia oppure in Indonesia su molte delle bellissime isole dell'Indonesia non hanno neanche la raccolta dei rifiuti urbani quindi dove finisce quella plastica dispersa nell'ambiente ed essendo aree di costa nell'ambiente significa dispersa in mare chiaramente poi noi diamo le colpe perché vengono fuori i report ma i maggiori contributi sono dei paesi del sud-est asiatico le Filippine che sporcaccioni sì ma siamo noi che li inondiamo di plastica monouso motivo per il quale abbiamo cominciato a fare i cosiddetti brand odiz cioè la classificazione per marca dei materiali che troviamo durante il clean up Andrea è bravissimo in queste cose perché oltre alla classificazione per tipologia di materiale anche loro hanno cominciato a fare la classificazione per marca per esporre il problema che è della Coca-Cola Pepsi-Cola Unilever Nestlé Mondelez eccetera 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 se volete vedere al volo c'è la foto delle condizioni della spiaggia della foce di quanta roba abbiamo raccontato Mettila mettila io intanto vado al punto che volevo fare che se devo individuare una il ferro di lancia per affrontare questi problemi nel prossimo futuro è senz'altro il deposito cauzionale il deposito cauzionale che è un sistema che è già diffuso in 15 paesi europei ma non solo nel nord Europa Malta Malta ha già il deposito cauzionale noi qua ancora ci trastulliamo con gente che dice ma qua in Italia non serve il deposito cauzionale era appunto i dati che abbiamo portato noi come associazione in realtà appunto europea Surfrider Foundation Europe ma questa è una pulizia che abbiamo fatto a Genova alla famosa campagna che abbiamo un po' menzionato di sfuggita del sistema di deposito cauzionale la richiesta di sistema di deposito cauzionale sugli imballaggi per bevande in tutta Italia e quindi i dati che abbiamo portato a supporto erano proprio questi dati visivi di appunto questa è tutta la spazzatura cioè una parte della spazzatura che abbiamo raccolto in una pulizia della Foce dove eravamo in oltre circa 200 volontari e appunto le informazioni che davamo erano queste cioè di solo bottiglie di plastica in una pulizione abbiamo raccolto 2649 e se ci fosse appunto un sistema di deposito cauzionale e queste bottiglie valessero 20 centesimi l'una appunto saremmo sugli oltre 500 euro di valore e si capisce appunto in un attimo come questo potrebbe disincentivare il problema del littering di cui stava parlando Enzo e appunto anche se qualcuno la gettasse per terra in spiaggia per strada qualche ed un altro probabilmente andrebbe a raccoglierla e appunto non è stato solo un problema delle bottiglie di plastica è stato anche un problema delle bottiglie di vetro e delle lattine abbiamo qua sopra i numeri 579 bottiglie di vetro e 615 lattine quindi si cerca appunto di chiedere con la campagna a buon rendere che appoggiamo noi come cittadini sostenibili e come Surf Rider Foundation Europe di appunto includere tutti gli imballaggi per bevanti in questo sistema che è un sistema che potreste aver già visto all'estero è molto diffuso in Germania e dove appunto quando si compra la bottiglia si pagano 15 centesimi 20 centesimi in più per quelle di vetro in Germania è meno ma il discorso è sempre lo stesso e quando la si restituisce vengono restituiti i soldi è molto semplice il funzionamento della restituzione alla reverse vending machine e appunto sarebbe una cosa che stiamo chiedendo in Italia la famosa caparra che c'era una volta sulle bottiglie di vetro esattamente avete fatto bene a citare il vuoto a rendere d'Antan però il deposito cauzionale non è solo vuoto a rendere un sistema più evoluto perché il vuoto a rendere prevedeva la restituzione allo stesso punto vendita ed era fatto tipicamente per le bottiglie in vetro riutilizzabile invece il deposito cauzionale è un sistema che riguarda tutti i contenitori per liquidi alimentari quindi bottiglie di vetro che possono essere anche evocate al riuso ma anche al riciclo se sono sbrecciate o qualunque altra cosa bottiglie di plastica e lattine c'è una previsione nella proposta di regolamento europeo per l'imballaggio e rifiuti da imballaggio l'articolo 44 prevede l'introduzione obbligatoria del deposito cauzionale in tutta Europa a partire dal 2028 per plastica e lattine anche qua il nostro ministro che io chiamo il ministro della minestra perché è una figura che che figura che ci fa fare a livello europeo io ho seguito dal vivo alcuni dibattiti che ha fatto il consiglio dei capi di stato e di governo e vabbè lui ha detto ah no questo dimostra che la proposta dell'Europa è una proposta ideologica tutta improntata sul riuso ma mi vuol dire che il riuso devo fare della plastica e delle lattine sono materiali evocati al riciclo è vero che ci sono dei circuiti di riuso basati su bottiglie in pietti a parete più spessa in Austria e in Germania ma sono dei circuiti di nicchia cioè la plastica è primariamente un materiale evocato al riciclo per fare quel riciclo a circuito chiuso da bottiglia a bottiglia e non da lattina a lattina ok tra l'altro tra l'altro la proposta stessa di regolamento europeo allo stesso articolo 44 dice se però il paese membro in grado anche senza deposio cauzionale di arrivare al 90% di raccolta di questi materiali è esentato dal deposio cauzionale quindi si dice se voi dite di essere così bravi va bene non c'è nessun problema allora loro ci hanno sfraccagnato i cosiddetti per tempo dicendo no ma non abbiamo bisogno del deposio cauzionale perché noi siamo bravi a fare già il riciclo senza deposio cauzionale adesso hanno fatto un'altra cosa abbiamo visto la proposta che ha mandato Bruxelles hanno proposto di abbassare l'obiettivo all'85% quel 5% di tolleranza posticipando la scadenza al 2035 il che significa abbassare dal 90 all'80% l'obiettivo piccolo particolare problematico è che noi abbiamo l'obiettivo del 90% già in una direttiva approvata dallo stesso Stato italiano che è la direttiva sulle plastiche monouso quindi l'Europa non può approvare una nuova previsione che va in contraddizione con una direttiva approvata appena due anni fa evidentemente noi ci facciamo ridere addosso letteralmente addosso con queste cose ma io non sono qua a parlare del governo italiano sono qua a parlare del deposio cauzionale e concludo dicendo che il deposio cauzionale avrebbe una serie di vantaggi immensi primo il primo ve l'ho già detto aumenta i tassi di intercettazione secondo consente il riciclo di elevata qualità perché la bottiglia viene raccolta da sola e non in quell'ammasso di polimeri indistinti che poi deve andare al centro di selezione di stoccaggio di Conai e quindi ci sono tutte le imperfezioni perché le macchine sono brave ma hanno una loro imperfezione intrinseca e terzo il fatto di commassare i volumi cioè nella nostra proposta il sistema deve avere un ente gestore no profit a livello nazionale che è responsabile del conseguimento degli obiettivi nazionali il 90% ma che gestisce i volumi di materiali raccolti in modo a garantire il diritto di prelazione per fare il riciclo a circuito chiuso la bottiglia a bottiglia perché non vogliamo più che invece sia da bottiglia a felpa a jeans a sciarpa a tappeto e robe di questo genere quarto ed è la cosa più importante la dico per ultima perché sta a cuore al mio amico Andrea Cavalleroni fa sparire il littering questo è l'effetto più immediato è notevole e visibile del deposio cauzionale tutti i materiali che sono soggetti a deposio cauzionale spariscono dalla dispersione che c'è in giro tant'è vero che noi usavamo sempre l'esempio comparato delle due repubbliche baltiche in Estonia c'era già il deposio cauzionale di littering di bottiglie e lattine non ce n'era in giro in Lettonia invece non c'era il deposio cauzionale e quindi si trovano bottiglie e lattine nelle campagne nei fossati per le strade eccetera eccetera alla fine anche la Lettonia ha deciso di introdurre il deposio cauzionale scusate faccio una mini domanda appunto visto che siamo a Genova e che si stanno diffondendo a macchia d'olio le cosiddette macchinette mangiaplastica ecocompattatori c'è un po' di confusione nella cittadinanza tra ma questo è un po' un deposito cauzionale un po' un vuoto a rendere no allora hai fatto benissimo a farmi la domanda allora quello va nella direzione giusta ma è largamente insufficiente quello non è un sistema di deposio cauzionale noi li chiamiamo raccolte incentivanti perché manca l'elemento fondamentale del deposito cioè lì non c'è un deposito che il consumatore lascia temporaneamente nelle mani del gestore e che può andare a riscattare lì ci sono a seconda delle situazioni degli sponsor locali che può essere l'IKEA le metropolitane di Roma vari soggetti che decidono di sponsorizzare sta cosa perché così gli mettiamo la macchinetta e loro sono contenti e contribuiscono alla loro immagine green va bene va benissimo da parte loro non sto contestando questo contesto invece il fatto che quando il consumatore va all'IKEA l'ultima cosa a cui pensa è di portarsi le bottiglie di plastica dietro e questo è il problema sapete quanta plastica è stata raccolta a fronte delle circa 100.000 tonnellate di bottiglie in pieti che sono state messe no 150.000 tonnellate di bottiglie in pieti che sono state messe al consumo l'anno scorso con gli ecocompattatori 2.000 tonnellate cioè è una cosa del tutto marginale ed è peraltro precaria perché uno sponsor ci può essere oggi ma fra un anno non c'è più no no ci vuole il deposio cauzionale che poi va benissimo che lo gestisca Coripet con Corepla con tutti con il Conai perché secondo noi questo deve rientrare il sistema della responsabilità stessa del produttore devono essere loro a gestire l'architettura contabile del sistema perché su Genova ne stanno mettendo più o meno il comune le stanno mettendo almeno una in ogni municipio sì sì diciamo che quello che si dice va bene comincia ad abituare la gente e tra l'altro ci sono dei fondi nazionali perché c'è il decreto salva plastica non è il decreto mangia plastica che dà delle dotazioni di spesa su questa cosa la domanda era ma possiamo cioè si presume che si possa arrivare a un 90% di raccolta assolutamente non ci arriveranno non ci arriveranno è quello il problema questa è la narrazione che è stata costituita da Corepla perché dice ma noi migliorando le raccolte in realtà le stanno peggiorando perché mettono cassonetti e calotte dappertutto e con il contributo delle raccolte incentivanti arriveremo al 90% però poi Andrea mandano a Bruxelles la proposta di abbassare l'obiettivo all'85% con il 5% di tolleranza e questo la dice tutta cioè quella è la pistola fumante la pistola fumante è quella va bene è stato un piacere parlare con voi ragazzi ci sono un po' di domande in chat andiamo con le domande andiamo con le domande allora la prima di Giuseppina che chiede a Enzo cosa ne pensa del volume The impossibilities of circular economy separating aspirations from reality edito da Le Mans non lo conosco ti devo dire gli autori non lo conosci quindi mi sembra sì purtroppo io non ce l'ho nella chat box perché mi sono disconnesso e poi riconnesso gli autori sono Christoph Insk Victoire de Margerie e Anita Slavetkova Nicolova se però Giuseppina interviene e mi dice di che cosa parla sto volume le posso dare un'opinione ragionata non lo so non ho mai sentito parlare no niente siccome tu sai che io sono una sostenitrice dell'economia circolare in modo direi tassativo il Paolo Cacciari mi ha mandato questo quaderno handbook che è un libro uscito recentemente che io ho provato appunto a leggere dove si contesta appunto il concetto proprio di economia circolare secondo me è una cosa molto grave questo volume secondo me ma su che base lo contestano Giuseppina allora ci sono tantissimi interventi quindi magari se riuscirai col tempo magari posso mandartene anche una copia in formato elettronico sì come me l'ha mandata Cacciari perché si sta molto diffondendo io appunto ti dico in giro ho visto che viene molto utilizzato per contrastare soprattutto sul consumo di energia però Giuseppina intendiamoci non è che ogni giorno si sveglia uno scienziato pazzo e dice ah cambiamo economia circolare la denominazione quando l'Europa ha già dieci anni di storie direttive regolamenti sull'economia circolare e tutto il mondo sta seguendo l'Europa negli Stati Uniti avevano una strategia analoga che chiamavano Sustainable Material Management SMM e invece adesso anche loro si stanno allineando alla definizione europea di economia circolare infatti secondo me andrebbe contrastato questo libro andrebbe proprio scritto cioè voglio dire Giuseppina guarda avessi 48 ore al giorno e 14 giorni alla settimana mi diverterei anche a contrastare gli scienziati pazzi ma abbiamo cose più importanti da fare nella vita e sono le stesse che fai tu anche sì no 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 ma va bene di fronte a queste cose in genere si dice raglio d'asino non sale in cielo poi magari il concetto è giusto anch'io trovo molta imperfezione nel concetto nella schematizzazione di economia circolare però sto pesare pro incontro gli aspetti energetici gli aspetti del fatto che i materiali fino a un certo punto possono essere diciamo ritornare ad avere vita è vero è vero ed è il motivo per cui noi parliamo di approccio a cascata cioè la riduzione è l'elemento più virtuoso poi viene il riuso poi viene il riciclo a circuito chiuso e solo dopo viene il downcycling perché noi vogliamo mantenere i materiali contro il secondo principio della termodinamica o meglio per rallentare l'entropia collegata al secondo principio della dinamica possiamo mantenere i materiali nel loro status più elevato il più a lungo possibile e poi se consumiamo comunque qualche scarto ci sarà e dobbiamo gestirlo in maniera migliore possibile possiamo vedere qualche altra domanda posso andare avanti sì Maria Teresa prego allora Andrea che adesso fa in tre domande Andrea chiedeva per gli altri rifiuti tipo speciali edili eccetera se sono inclusi nel RUR no no i rifiuti speciali sono un capitolo a parte sui rifiuti speciali quando ci dicono l'Italia è molto brava a riciclare del primato mondiale e parlano di un 78% di riciclo in realtà fanno riferimento all'ammontare complessivo rifiuti urbani più speciali ma negli speciali ci sono gli inerti da costruzione e emolizione che sono la cosa più semplice da riciclare in Italia ne ricicliamo l'85-90% tenete presente che il rifiuto speciale che significa generato da attività produttive sono in genere grossi ammassi monospecifici di materiali che quindi sono naturalmente inclini ad essere più facilmente riciclati e tra l'altro siccome vige il concetto della responsabilità del produttore il principio che inquina paga quindi chi li produce è responsabile economicamente della loro gestione loro cercano di segregarli per mandarli a riciclo e non alla discarico all'incenerimento che costano di più sempre Andrea chiede la bioplastica compostabile rigida riesce veramente a essere compostata oppure la maggior parte degli impianti a cui viene conferita non è in grado di trattarla no allora riesce ad essere compostata però non è un uso intelligente della plastica compostabile il fatto che riesca ad essere compostata non significa che sia allora usiamola io dico sempre purtroppo soprattutto in Italia ma non solo in Italia c'è stata una distorsione del dibattito sulle bioplastiche diciamo sulle plastiche compostabili perché bioplastiche include anche le plastiche biogeniche cioè quelle di origine rinnovabile ma che poi esiste un polietilene normale di origine rinnovabile ma si comporta come polietilene a fine vita a noi interessa invece la sotto insieme delle bioplastiche quelle compostabili ok l'N13432 che è lo standard di certificazione a livello europeo e al quale io ho partecipato per conto delle associazioni ambientaliste europee è dal 2002 che c'è 20 anni ed è soggetto a una revisione periodica ogni 5 anni con il contributo degli impianti di compostaggio o di chi li rappresenta l'European Compost Network nel caso specifico ha già fatto tre revisioni senza delle modifiche adesso quest'anno stanno inserendo un altro test di ecotossicità perché fino adesso c'era solamente quello sulla germinazione dei semi adesso mettono anche quello per i lombrichi che secondo me è giusto e poi stanno inserendo un test di biodegradazione in ambiente anaerobico per gli impianti di digestione anaerobica perché attualmente il test di biodegradazione è in ambiente aerobico per gli impianti di compostaggio però c'è anche un test di compostabilità effettiva in condizioni operative quindi cioè di degradarsi si degradano però le plastiche rigide in genere rappresentano degli imballaggi che non sono alla fine del loro utilizzo sporchi di cibo e quindi perché lo devo rendere compostabile cioè la plastica compostabile è ragionevole per gli imballaggi che sono intrinsecamente sporchi di avanzi di cibo alla fine del loro uso e quello che io ho detto da sempre è che adesso si sta facendo strada c'è stata una comunicazione non legalmente vincolante della Commissione Europea il 30 di novembre dell'anno scorso sul ruolo delle bioplastiche il concetto che si sta facendo strada è che devono essere considerate non nell'agenda sulla plastica come soluzione al problema della dispersione della plastica quello lo dobbiamo affrontare in altre maniere con la riduzione il riuso il miglior riciclo il deposito cauzionale e quant'altro ma devono essere considerate nell'agenda sull'organico cioè come strumento per migliorare quantità e qualità dell'organico che viene differenziato sacchetti per la raccolta differenziata capsule di caffè bustine di terra e forse non abbiamo menzionato correggimi se sbaglio l'Italia ha recepito scorrettamente la direttiva europea sulla plastica monouso dando una deroga alle bioplastiche compostabili come se non ci fosse domani è la cosa su cui è la cosa su cui si è incardinata la procedura di infrazione che ha fatto il suo primo passo e che avevo citato velocemente prima bravo Andrea è così è così cioè l'Italia sostanzialmente sottratto ai divieti che dovrebbero riguardare cinque tipologie di materiali i piatti le stoviglie piatti e stoviglie monouso bastoncini per i palloncini cannucce e cotton fioc cotton fioc è il nome commerciale cioè bastoncini per la pulizia delle orecchie quelli sarebbero vietati comunque a livello europeo se contengono plastica che sia compostabile o meno sarebbero vietati perché la direttiva lo dice esplicitamente non si fa le noeccezioni per la plastica compostabile invece l'Italia ha detto se sono in plastica compostabile non vale il divieto peccato che siamo in una condizione di mercato comune tant'è vero che il primo passo della procedura di infrazione cioè l'opinione ragionata che è arrivata il 23 dicembre del 2021 al governo italiano e che io ho letto non è stata firmata da Sinchevicius commissario dell'ambiente ma da Thierry Breton commissario della concorrenza ha detto voi state distorcendo il mercato comune una precisazione l'aveva già detto Andrea Cavalleroni durante la conversazione ma Andrea Sbarbaro invita a firmare su un sito buonrendere.it l'iniziativa di cui bravi andate firmate andate firmate buonrendere.it Giuseppina fa di nuovo un lungo intervento e dice quando ero a Genova abbiamo approvato il piano di riduzione dei rifiuti che andava nella direzione indicata da Favoino confermo che il porta a porta e la raccolta dell'organico si può fare nelle piccole siti vedi Reggio Emilia dove con l'aiuto di Enzo abbiamo chiuso inceneritore e oggi la raccolta differenziata è più dell'80% ma anche a Roma nel quinto e nel decimo municipio 500.000 abitanti abbiamo introdotto la raccolta differenziata porta a porta con risultati dal 65 al 70 e Favoino parlava di Milano condividuo e certifico esatto non ho niente da aggiungere e tu parlavi di Milano prima ancora di più si ma anche le situazioni che lei ha citato anche a Ponticelli a Napoli quando hanno introdotto il porta a porta lì sono andate all'80% di raccolta differenziata e poi Andrea salutava e risponde non ho altro in chat ah no scusa 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 Marco Olobardi dice dobbiamo preoccuparci del fatto che Eni acquista Novamont e quindi anche plastiche compostabili non lo so non lo so è troppo presto per saperlo non lo so ma loro vedono un pulcino dalle uova d'oro però intendiamoci il quantitativo totale di plastiche messe al consumo in Italia sono 6 milioni di tonnellate di cui 2 milioni e 400 mila tonnellate plastica da imballaggio le plastiche compostabili in Italia che è il paese che più le usa al mondo sono 100 mila tonnellate cioè non stiamo parlando di un elemento preponderante nel settore della plastica perché anche in Italia sono soprattutto i sacchetti compostabili che sono 60 70 mila tonnellate all'anno e poi qualche applicazione alcune ragionevoli come le capsule di caffè alcune assolutamente delle porcherie tipo la biobottiglia della Sant'Anna ecco quando si parlava di plastiche rigide è quello che mi veniva in mente la biobottiglia ma che me ne devo fare della biobottiglia quando invece le strategie europee mi definiscono una strategia virtuosa per le bottiglie in P&T con il 90% di intercettazione i contenuti minimi di riciclato e il deposito cauzionale assolutamente non lo so può darsi che rivedano la loro politica appunto su plastiche bioplastiche legate solamente al settore dell'organico e non alle altre applicazioni oppure che invece si vogliono allargare nelle altre direzioni è troppo presto per vedere vedremo monitoreremo e ci faremo un giudizio e lo diremo sempre con franchezza di spirito come abbiamo sempre fatto perché la verità è sempre rivoluzionaria Bene ci avviamo per la conclusione ti posso chiedere proprio una battuta vi rendo conto che secondo te gli inceneritori hanno un futuro proprio ce la fai a dire una battuta e poi poi ci la fai ma gli inceneritori hanno un presente oggettivamente hanno un presente in Italia ne abbiamo 37 stanno diminuendo in Italia e ne abbiamo 42 qualche anno fa adesso sono 37 però c'è la proposta di Gualtieri a Roma due in Sicilia salvo che poi l'assessore regionale si accorge che ahimè costa tanto e che costerà sempre di più e ha detto eh avremo bisogno di aiuti da parte del governo peccato che non possono arrivare tali aiuti in ossequio non solo al principio di NSH ma anche al fatto che verrebbero codificati come aiuto di Stato e quindi ci sarebbe una procedura di infrazione non è possibile poi c'è una proposta nel piano regionale dell'Umbria non mi aspettavo altro perché il piano è stato redatto da gente legata al sistema era e quindi è matematico quando ci e non a caso stanno promuovendo i cassonetti con le calotte perché tutto si tiene c'è una coerenza deteriore di questi sistemi cassonetti con calotte inceneritore c'è una proposta a Pordenone un'altra a Trento quindi è un po' la nostra linea del fronte su Roma perché se riusciamo a fermare Roma poi magari riusciamo a far implodere anche le altre le altre situazioni però se posso fare una valutazione a livello macroscopico no in Europa stiamo entrando nell'era per tutto quello che vi ho detto stiamo entrando in quella che io da tempo ho chiamato l'era del decommissioning di age of decommissioning l'era dello spegnimento vi ho citato la Danimarca 30% di piano di spegnimento Fiandre 50% Scozia, Galles e Catalogna hanno già adottato una moratoria totale su ogni nuovo inceneritore scusa scusa una cosa quelli che hanno chiuso per quali motivi hanno chiuso? quelli italiani? pensavo a quelli italiani poi tu hai dato la statistica europea e mi ha no in Europa sono dei piani pubblici annunciati di spegnimento di spegnimento che avverranno nei prossimi anni quelli italiani che hanno chiuso quelli in Italia perché erano inceneritori che erano arrivati alla fine della vita utile e hanno capito non perché non avevano abbastanza materiale che non c'era più ciccia perché noi stiavamo diminuendo il rifiuto residuo e quindi non gli conveniva investire in un ulteriore giro quindi questa cosa che non abbiamo abbastanza materiale per alimentare l'inceneritore non è un freno sufficiente per non fare quelli nuovi però se poi mi fanno quello nuovo a Torino poi mi cominciano a fare la raccolta differenziata del cavolo con le calotte pseudo intelligenti per diminuire la raccolta differenziata e aumentare il rifiuto residuo che va all'inceneritore certo è sempre cioè a un certo punto si arriva sempre a un punto di frizione fra le due cose però in Europa occidentale a grandi linee con l'eccezione della Spagna del Portogallo della Grecia il mercato dell'incenerimento è saturo cioè ci sono già dei casi blatant come se si sfacciati di sovraccapacità in Olanda in Svezia in Danimarca loro stanno già importando rifiuto Roma ha appena annunciato che manderà 900 tonnellate a settimana in Olanda e mentre i fan dell'incenerimento dicono vedete che poi siamo costretti a mandare l'incenerimento in Olanda e io gli dico ma non vi siete fatti una domanda come mai l'Olanda ha questa capacità per raccogliere le vostre 900 tonnellate perché devono rispettare gli obblighi delle direttive europee sull'economia circolare gli si libera spazio e o ricevono il vostro rifiuto o vanno in bancarotta e la stessa cosa potrebbe capitare a voi a breve e questo è il ragionamento c'è un terreno di scontro nell'Europa centro-orientale cioè i paesi dell'allargamento verso est quindi a Polonia l'Ungheria la Repubblica Ceca eccetera eccetera lì stiamo facendo un confronto anche aspro con i governi nazionali il grosso mercato per l'incenerimento però è la Cina perché in Cina c'è una decisione monocratica lì non c'è bisogno di convincere tanta gente vanno da Xi Jinping e gli dicono guarda quanto è bello l'incenerimento lo portano a sciare sul tetto dell'inceneritore più inutile del mondo quello di Amager Back a Copenaghen perché è davvero inutile non lo dico io l'ha detto il ministro dell'ambiente della Danimarca Ida Hauken che per quello ci ha rimesso il posto nel governo perché le lobby sono potentissime anche da quella parte ma rischiava di andare in bancarotta Copenaghen e tutti i comuni intorno che sono azionisti dell'inceneritore perché non sanno che bruciarci in quell'inceneritore e serviva appunto a portarci Xi Jinping e tutti i decisori della Cina decisioni presto fatte un mercato di un miliardo e mezzo di persone cominciano ad avere capacità di spesa e in più ci sono dei meccanismi distorti di finanziamento tipo la banca asiatica di sviluppo e cose di questo genere tutte cose contro cui lottiamo quotidianamente perché ci piace andarci a fare anche gli affari degli altri quando si tratta di una buona causa ti piace anche andare a rompere le scatole in Cina in India e nelle Filippine in Thailandia ma ce lo chiedono i nostri amici e fratelli di battaglie sì 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 tranquilli che qualunque il primo camion che dovesse portare 10 tonnellate di rifiuto a un nuovo incenditore in Cina troverà il mio corpo steso per attraverso sulla strada un po' come quello lì che fermava i carri armati che andavano in piazza Tiananmen e ci troveranno Enzo Favoino va bene d'accordo sentite siamo arrivati alla fine io ringrazio tantissimo Enzo e penso che sia utile le cose che ha detto e sarà anche utile ripeterle tanto ricordo che questa cosa questa trasmissione verrà registrata e quindi sarà possibile vederla e farla girare volevo ringraziare oltre a Enzo tutti quelli che ci hanno seguito in diretta il Circolo Zenzero che ci sta ospitando e ringrazio Maria Teresa Tuccio e Cristoffa Garaventa che stanno ci hanno dato una mano diciamo per la regia e infine Carola Sessargo che ha curato la grafica di tutte queste nostre presentazioni in modo assolutamente brillante chiedo a Maria Teresa allora dici vabbè la prossima appuntamento ci puoi dire qualcosa? Sì su questo ringraziamento a Carola della grafica andrò a condividere la locandina della prossima conferenza mentre condivido ringrazio Enzo per la conferenza veramente brillante e interessante che ci ha mi è piaciuta tantissimo lo dico così senza mediazione la prossima conferenza sarà giovedì 4 maggio e avremo per l'AMIU di Genova a Tiziana Merlino e per non mi ricordo la sigla di Milano AMSA AMSA grazie Danilo Vismara e metteremo a confronto questi due metodi temo già di capire da che parte pende la bilancia no no vedremo vedremo e vedendo l'effetto di questi nuovi cassonetti la conferenza la conferenza sarà come sempre in presenza allo zenzero ho dimenticato di mettere in risalto l'ora ma è riportato nelle locandine giovedì 4 maggio alle 17.30 in presenza allo zenzero e online su zoom il collegamento di zoom lo trovate sui nostri siti per il sito dello zenzero nella sezione calendario per il sito di eco istituto nella sezione 20 grazie ancora a tutti in particolare a Christopher che ci assiste ogni volta che andiamo in difficoltà per le questioni tecniche e a tutti i partecipanti veramente a tutti buona serata e grazie ancora Pavolino